A 12 ore dalla chiusura dei seggi elettorali il quadro sembra definito a battipaglia, anche se lo spoglio è ancora parziale, sarà il ballottaggio a decidere il futuro sindaco di battipaglia. Il 19 giugno si contenderanno lo scranno più alto nel comune di battipaglia Gerardo Motta e Cecilia Francese. Le percentuali di voto, la forbice fra i due candidati a sindaco è di 7 punti, Gerardo Motta viaggia intorno al 30,82%, mentre Cecilia Francese viaggia intorno al 23,28%. Risultati ancora parziali, come dicevo prima, a 12 ore dalla chiusura dei seggi. Lo spoglio procede a rilento soprattutto per la modalità di voto con la preferenza di sgiunta e con la doppia preferenza di genere. A classificarsi, fra virgolette, terzo nella tornata elettorale è Ugo Tozzi, che raggiunge una percentuale del 19,26%. Meno di quanto si aspettasse invece per Enrico Lanaro, che raggiunge appena il 15%. Invece per Vincenzo Inverso la percentuale di consenso elettorale è del 5,37%. 3,28% invece per Piero Ciotti, 1,80% per Cersosimo Riccardo Maria Antonio Biaggi e 0,96% per Marchetta Guglielmo della lista Noi con Salvini. Ancora tanta attesa, soprattutto per i candidati al Consiglio Comunale, che dovranno attendere il pomeriggio per poter conoscere le preferenze ricevute dai propri elettori. Ma su questo ed altro, attraverso collegamenti in diretta e servizi in differita, 6TV terrà aggiornati i suoi telespettatori. Siamo qui oggi per ricordare Petru. È drammatico quello che è successo qualche anno fa, ma ancora più drammatico è stata l'indifferenza generale. Noi siamo qui per ricordare e per fare in modo che l'insensibilità mostrata in quel giorno non si ripeta in futuro. Dobbiamo educare le giovani generazioni perché il sociale in qualche maniera diventi di tutti. Oggi è una giornata importante perché a sette anni dalla morte di Petru noi cerchiamo di ricordarlo nella maniera più semplice, ma anche più visibile dal punto di vista mediatico per accendere i riflettori contro l'indifferenza. Un'indifferenza generale che non solo rispetto ovviamente all'episodio della morte di un innocente dovuta alla camorra, ma più in generale alla indifferenza che circonda molto spesso una serie di problematiche, compresa quella dei trasporti locali, della cumana che viene lasciata morire negli anni passati e che oggi stiamo ricercando di trovare la strada per portarla ai momenti migliori che ha avuto nel suo passato. Quindi un momento oggi importante di riflessione, di silenzio, ma allo stesso tempo riflettere, agendo per risolvere i problemi. Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità la legge cambio di denominazione del Comune di Capaccio in Comune di Capaccio Pestum. La norma proposta dal generale Carmine De Pascale, consigliere di De Luca, presidente in rete, parte da un'iniziativa nata nella precedente legislatura e ha visto anche lo svolgimento di un referendum che, registrata la volontà favorevole alla proposta da parte dei cittadini di Capaccio, ha dato così il via alla nuova legge. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, ha commentato De Pascale, il cambio di denominazione del Comune di Capaccio valorizzerà il territorio in quanto il nome di Pestum rappresenta un brand riconosciuto in tutto il mondo ed un'attrazione turistica globale per il valore storico del sito archeologico. In questo modo si avrà un impatto positivo su tutta l'economia del territorio, ne beneficerà il settore turistico commerciale dei prodotti dell'eono gastronomia tipica locale. Il provvedimento è stato apprezzato anche dal sindaco Italo Vozza, aggiunge il toponimo Pestum, ha detto Vozza, rappresenta un evento storico che porterà alla valorizzazione e alla promozione a livello mondiale, non solo del Comune di Capaccio, ma del territorio intero. La grande azione di sensibilizzazione internazionale che si sta portando avanti per la pizza è strategica per la valorizzazione dei prodotti tipici campani, pomodoro san marzano, olio extravergine di oliva, mozzarella di bufala, farina, tra i più taroccati al mondo. Porre l'accento sulla pizza e sull'arte dei pizzaioli significa prima di tutto esaltare le produzioni locali, la cui eccellenza va tutelata dai falsi che purtroppo danneggiano imprese e consumatori. Lo dice il presidente di Coldiretti, Salerno Vittorio San Giorgio, che saluta con favore il contest Astag Pizza Unesco presentata a Napoli. Coldiretti annuncia San Giorgio chiederà ai Comuni di inserire nei capitolati di appalto delle menze scolastiche l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero, in particolare il pomodoro san marzano, la mozzarella, l'olio extravergine di oliva dei nostri territori. Per il pomodoro, che è il prodotto principe della pizza, l'obiettivo è di arrivare a triplicare in un quinquennio le superfici a San Marzano nell'areale di produzione per garantire nuova economia ai territori. Battipaglia e Sevolli ad un passo dalla promozione in B2. Dopo la vittoria della prima e seconda fase dei play-off contro il Pozzuoli e contro il Cus Napoli, inaspettatamente arriva per le ragazze del coach linea infante la finale contro il Castellamare di Stabbia. L'allenatrice, giunta a Battipaglia, a torneo inoltrato, con una squadra in crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive, ha ridato gli stimoli giusti a un gruppo forte che si è ricompattato, centrando ben 17 vittorie su 19 partite. Contro ogni pronostico, le ragazze della Battipaglia e Sevolli hanno raggiunto un risultato inaspettato. Terzo posto in campionato, play-off, ed adesso si apprestano alla fase finale dei play-off contro il Castellamare di Stabbia, squadra che ha vinto il campionato nel Girone C e con ben nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica. La prima gara domani sera in trasferta alle ore 21, la seconda invece al Palapuglisi domenica 12 giugno alle ore 20 e 30. L'arma vincente della Battipaglia e Sevolli è senz'altro il gruppo formato da Alessandra Costantino, Francesca De Matteo, Roberta Battaglia, Barbara Giordano, Giuseppina Palladino, Elisabetta Di Nuocolo, Antonio Coscia, Francesca Coralluzzo, Giorgia Galdi, Gerarda Giello, Speranza Tramontano, Marianna Granozio, vice coach Sergio Avallone, direttore sportivo Salvatore Minutali, coach Lini Infante. Contro ogni pronostico 17 risultati consecutivi, terza classificata, la squadra di Battipaglia, play-off, prima gara 3-2, seconda gara 3-2, si impone contro il Pozzuoli, si impone contro il Cus Napoli, adesso è finalissima per accedere alla Serie B contro Castellammare di Stabbia. Una vera e propria sorpresa? Sì, è una sorpresa perché quando io sono arrivata a novembre questa squadra doveva comunque fare un buon campionato, far crescere alcune ragazze, certamente non era nei nostri programmi, anche se sempre le ragazze ci hanno creduto, qualcosa in più si è avuto dopo la partita con il Cus in casa loro, e lì abbiamo capito che potevamo giocarcela con tutte, cioè anche con la seconda in classifica, vabbè contro la prima abbiamo perso, però c'è stata poi una scia di risultati positivi che ci ha fatto capire che potevamo aspirare a qualcosa in più. Poi le ragazze hanno fatto tutto perché ci hanno creduto, hanno lavorato bene in palestra, mi hanno seguito e quindi il lavoro ottiene sempre risultati. Qual è il segreto di questo successo? Possiamo chiamare successo seppur aspettiamo il risultato della finale, però oramai ci siamo dopo questa ascesa favorevole, sicuramente come qualunque sia il risultato, spero che sarà sicuramente positivo, sarà un successo. Secondo me il segreto è il fatto di non averci creduto, quindi hanno affrontato delle gare con poca ansia, diciamo solo con la voglia di giocare, di divertirsi, questo forse è stato il nostro punto forte. Poi hanno affrontato invece le altre, le ultime gare con molta professionalità, con impegno, e questo è stato il nostro segreto. Martedì il Castellammare? Mia ex squadra, l'ho allenata l'anno scorso, è forte perché ha fatto molto bene nell'altro girone, è arrivata prima e mi pare non perdendo nemmeno una partita. Ottima squadra, ottimi elementi, delle grosse individualità, però loro hanno l'individualità, noi non abbiamo l'individualità, abbiamo il gruppo. 50 e 50? Beh diciamo, sì, speriamo che 50 e 50 così ce la giochiamo. Grazie a tutti.